benvenuti ben ritrovati amici del vaso di pandora come vi avevo già preannunciato la scorsa settimana abbiamo nuovamente ospite con noi franco fracassi ciao franco ben ritrovato giornalista d'inchiesta scrittore documentarista oggi parliamo di della sua nuova lavoro lo vediamo qui sopra in sovraimpressione virus virus grazia chi ha guadagnato e trarrà enormi vantaggi dalla pandemia è quello che tu franco hai definito un audiolibro è un audio inchiesta giusto io l'ho guardato tutto è incredibilmente interessante io lo definisco un corso accelerato di consapevolezza su questa su questa tematica il l'audiolibro si può acquistare poi vedete vedrete anche l'indirizzo riportato sulla testo la scrivendo a franco fracassi 1 in numero chiocciola gmail.com e senti veniamo subito proprio a questa inchiesta in questi due anni è esploso lo strapotere delle corporation globali no questa è una delle tesi della della tua audio inchiesta in che senso e poi in che modo allora è esploso perché loro hanno diciamo fatto un sacco di soldi perché perché siamo sei costretti cioè siamo siamo stati costretti a consumare dei farmaci siamo stati costretti a navigare tutti quanti su internet a consumare insomma quindi sono tutta una serie di aziende che hanno guadagnato da questo è esploso perché loro hanno si sono impossessati di parte della nostra vita quotidiana faccio l'esempio per esempio di per quanto riguarda la scuola allora noi siamo stati costretti tutti i nostri figli sono stati costretti a andare a scuola in dad allora la dad è una piattaforma fatta dal ministero della pubblica istruzione italiano quindi una cosa pubblica teoricamente in realtà mentre stanno costruendo questo software la apple e e microsoft e hanno sostanzialmente no scusate la apple e google hanno sostanzialmente detto al ministero che se non ci fosse stato il loro intervento quella la piattaforma non avrebbe funzionato il ministero senza porsi nessun problema si è messo nelle loro mani che vuol dire vuol dire che noi abbiamo privatizzato la scuola la scuola diventa è entrata in mano al apple e a google che non solo gestisce le lezioni ma attraverso le telecamere che ci sono sui computer attraverso tutte quante riesce a scrutare quello che fanno i bambini riesce a carpirne tutti quanti segreti ma pare proprio si sa tutto anche delle pagelle quant'altro perché si passa attraverso google per fare queste cose e così via quindi loro si sono impossessate di pezzi della nostra vita che fino adesso non erano in loro possesso o quantomeno c'era chi mandava i bambini alla scuola pubblica chi è la scuola privata per scelta ma comunque rimaneva una scuola non rimaneva una corporation che stava da una parte e si impossessava di di tutte le informazioni sui nostri bambini e la gestiva in qualche modo perché se decide di staccare la spina la scuola non c'è più e di cose di questo genere sono successe tantissime infine l'ultimo aspetto per cui loro si sono impossessati del del potere e il fatto che le nazioni unite nel corso degli ultimi venti anni sono state lentamente privatizzate tutte le nazioni unite e tutte le organizzazioni internazionali quindi diciamo all'inizio era l'idea kofi annan all'epoca l'epoca segretario generale delle nazioni unite kofi annan perché la macchina è molto costosa bisogna fare una serie di cose però questo ha aperto la strada in realtà queste donazioni non sono donazioni sono investimenti personaggi singole persone o anche molto ricche o anche grandi aziende investono soldi investono nella fao cioè l'agricoltura investono nell'unicef ovvero i bambini investono nella nelle nazioni unite in quanto tali e quindi anche nella sicurezza perché ovviamente c'è il consiglio di sicurezza ma anche che manda i caschi blu manda i soldati e manda le attrezzature le le investono nell'oms ovvero una sanità e così via nell'unesco cioè nella cultura cioè loro mettono dei soldi in cambio di questi soldi loro decidono che cosa farci io non è che ti do un miliardo di euro così ti do un miliardo di euro ti do un miliardo di euro perché con questo miliardo di euro tu devi fare questo apparentemente tutte quante cose diciamo per il bene dell'umanità però intanto le decidono loro e non le decide la comunità quindi loro possono decidere anche cose che rappresentano un tornaconto per loro e secondo poi in questa maniera investimento in molte delle agenzie delle nazioni unite loro hanno preso il sopravvento e quindi a questo punto sono loro che decidono l'oms è così è l'oms che c'è nell'oms sono i privati che decidono e non gli stati se poi pensiamo che adesso andrà in votazione un un provvedimento l'oms che si raggiungerà il 67 per cento degli stati favorevoli consegnerà all'oms il diritto di una volta dichiarata la pandemia di gestire il le politiche sanitarie di tutti gli stati del mondo capite bene quanto questa cosa possa essere invasiva chiarissimo chiarissimo senti franco la ritorniamo un attimo alla punto al discorso quello che viene definito lo strapotere delle corporation globali ecco i grandi manager delle corporation nell'audio in chiesta si dice si conoscono tutti è fra loro in pratica è una cupola planetaria sì diciamo cupola in senso molto largo sì ci sono circa 2.700 persone che hanno un patrimonio sterminato che non sono poche ma al tempo stesso sono pochissime in rapporto alla popolazione mondiale ci sono queste 2.700 errotte persone che hanno che sostanzialmente sono proprietarie di buona parte del pianeta che ne controllano le attività economiche finanziarie controllano le nazioni unite questa è la cosa importante anche per le questioni di sicurezza cioè noi parliamo giustamente abbiamo il focus sull'oms sulla sanità perché questo è quello che ci ha interessato negli ultimi anni però c'è il problema della sicurezza cioè le nazioni unite intervengono militarmente in tutto il mondo attraverso i caschi blu e attraverso il consiglio di sicurezza delle nazioni unite allora se tu se il consiglio di sicurezza ha deciso un intervento e quell'intervento viene fatto da privati o quantomeno deciso in parte da privati o in cui i privati hanno un ruolo cambia tutto perché a quel punto non sono più le nazioni unite che avevamo pensato nel 80 anni fa sono le nazioni unite di alcuni signori come si vede nei film distopici e questa è la questa è la cosa mostruosa che sta accadendo delle tante cose gravi non è non è l'unica grave ma sicuramente è un aspetto gravissimo su cui bisogna tener conto è fondamentale questo aspetto senti bill gates aveva pronunciato già nel 2015 una pandemia virale e la sua organizzazione aveva già pronta la soluzione alla pandemia da covid già nell'aprile della 2020 bill gates diciamo controlla in qualche modo ecco e qui veniamo ci rilasciamo al punto di poco fa controlla in qualche modo l'oms e bill gates ha investito moltissimo anche negli organi di informazione internazionale di quello a cui tu facevi riferimento anche prima si può considerare gates il fulcro di questi due anni pandemici si uno dei fulcro dei due anni pandemici sicuramente sono chi sono gli altri parliamo di gates quali sono gli altri in particolare jeff bezos di amazon è un altro insomma brin di google è un'altra ancora però ci sono anche i diciamo i colossi pfizer moderna e così via che sono in parte controllate da gates ma soprattutto sono controllate da tre colossi finanziari che sono black rock vanguard e state street quindi c'è larry fink che è un personaggio che conoscono molti molte meno persone che ha un potere esterminato larry fink che il fondatore di black rock e nonché l'amministratore legato della società e lui proventa molto più potere di tutti i presidenti del pianeta perché ne possiede il ne possiede l'economia ne possiede non so come dire secondo te ecco larry fink no che come come noi almeno sappiamo è un classico questo le persone veramente potenti sono persone sconosciute ai più no se dovessi fare una classifica mettiamola così larry fink è più o meno potente ad esempio di bill gates molto di più molto di più infatti è molto meno conosciuto l'uomo immagine mettiamolo così sì sì come per i politici no ci sono gli uomini immagine che però contano di meno beh in realtà in realtà bill gates conta molto di più in proporzione un paragone e bill gates e scusate larry fink è un po il licio gelli della dell'economia e della finanza mondiale il burattinaio è quello che sposta le cose che decide poi ci sono gli andreotti ci sono i costiga ci sono tutti quanti finito anche viene definito nella nella audio inchiesta anche claus schwab viene definito in qualche modo il licio gelli del ventunesimo secolo no esattamente esattamente lui allora tutto questo io non ho parlato del world economic forum e il world economic forum rappresenta la eh trasformazione eh pratica evidente nei fatti di questo discorso che ho appena fatto ovvero la politica è stata soppiantata da non dall'economia perché insomma l'economia ha sempre avuto un ruolo fondamentale e nemmeno tanto la finanza è stata soppiantata da un da alcuni gruppi di potere e il gruppo di potere del world economic forum è il più importante di tutti in questo momento al mondo eh non è l'unico non è l'unico ce ne sono altri ce ne sono altri anche molto potenti ma è il più importante di tutti perché perché sono riusciti ehm a eh far sì che eh i vertici internazionali come li conoscevamo il g7 o g8 il g20 eh i vertici dell'unione europea qualsiasi vertice immaginate anche i vertici che riguardano l'ambiente eh i vertici che riguardano la cultura cioè tutte tutte quei vertici per cui ci mandiamo inviamo decine centinaia di giornalisti che ci raccontano come dovrà cambiare il mondo che cose sta facendo e così via perdono vengono svuotati di significato perché in quelle occasioni lì non si decide più nulla il world economic forum è un eh un soggetto che ha sede peraltro ha sede a ginevra in un edificio che sembra un bunker non saprei un fornox una cosa del genere peraltro piazzato di fronte con tutti i con tutti diciamo teleobiettivi che sono anche evidenti di fronte a ginevra ci sono le nazioni unite c'è l'oms ci sono tutte le serie cose immaginate stanno all'altra parte del lago e ci sono questi teleobiettivi puntati che scrutano anche fisicamente quello che fanno queste persone dentro questo fornox a ginevra eh c'è lo scrigno del potere com'è adesso 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 nel mondo e poi una una volta l'anno fornox si sposta a davos e luogo in cui si incontrano queste 2700 rotte persone cioè quelli che hanno i soldi quelli che si comprano le cose quelli che investono quando dice gli investitori stranieri in italia attiriamo gli investitori ecco sono queste 2700 rotte persone che arrivano tutti a davos e e poi arrivano anche i politici ma i politici non sono per la prima volta in una storia non sono i protagonisti ed è una cosa strana perché i politici rappresentano noi rappresentano i governi i politici sono i comprimari anzi sono in alcuni casi gli spettatori cioè lo vanno lì è come quando uno va da qualche parte a assistere a un convegno no e va in sala puoi puoi essere più o meno importante ma va in sala e poi ci sono i membri del convegno che ti illustrano come stanno le cose che cosa bisognerebbe fare possiamo dire per stare a casa nostra che anche draghi voglio dire valida da spettatore valida esattamente in altri casi lui è dall'altra parte del adesso va da spettatore poi diciamo draghi è un personaggio intercambiabile però il punto è che lì vengono l'agenda onu 20 30 è stata decisa dal world economic forum e questo è l'esempio più clamoroso cioè loro hanno deciso che in che direzione dove andare il mondo dopo di che le nazioni unite attraverso gli stati perché i vari capi di governo sono andati a davos hanno ascoltato hanno ricepito come se avessero ricepito gli ordini e sono presentati alle nazioni uniti hanno detto bisogna fare così 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 e così e nei vari vertici internazionali quelli sull'agricoltura quelli sull'ambiente quelli sulla cultura quelli su quello che vi pare a voi no compresi g7 g8 g20 e così via hanno sostanzialmente messo nero su bianco quello che gli avevano detto di fare quindi questi 2700 persone sono impossessate del nostro potere cioè della politica attraverso il world economic forum poi per fortuna o purtroppo non lo so perché poi questi centri di potere non è che sono cioè ce ne sono alcuni che sono non so io penso al centro di potere che sta intorno a a biden no che è un altro gruppo di potere che non è davos è un'altra cosa quindi non è che è potentissimo quindi non stiamo parlando di non è che davos regna su tutto però ha assunto un ruolo decisivo cioè davos sono le nazioni unite schwab è il segretario generale delle nazioni unite certo non so se mi spiego senti franco la come centro di potere anche washington stesso può essere considerato oggi come meno 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 potente meno influente di davos è un iperbole o possiamo dire che realisticamente per certe cose così per alcune cose sì poi dopo di che la forza militare c'erano gli americani certo la la anche la forza persuasiva loro anni media loro hanno una forza d'urto non solo militare ma appunto di comunicazione che non ha nessun altro quindi diciamo che in parte così sono più deboli rispetto a prima quanto meno il potere il potere politico dei stati uniti america è più deboli rispetto a prima perché poi a davos c'è nel world economic forum che poi indica davos ma la sede sta altrove semplicemente si svolge ogni anno questa kermess lì ci sono anche quelli del potere che sta intorno a biden che vanno lì cioè partecipano sono diciamo si interlacciano con con il web con il world economic forum sì sì e senti vado vado un po random ma no senza un ordine ben preciso prendendo spunto però tutto questo prendendo spunto dalla la tua audio inchiesta punto virus crazia e nella punto nella questa inchiesta viene affermato che i vaccini sono una merce di scambio politico in che senso nel senso che le diciamo gli stati uniti l'occidente e in particolare sotto gli stati uniti hanno hanno le aziende che hanno prodotto questi vaccini gli stati uniti e regno unito quindi il mondo anglosassone dopodiché hanno offerto questi vaccini a tutta europa e le hanno offerte a tutto il mondo e loro stabiliscono chi deve avere chi non deve avere bisogna un attimo lasciar perdere la validità dei vaccini non si sta facendo un discorso scientifico non c'entra nulla è una questione meramente politica di potere io ho la panacea per tutti i tuoi mali quindi se la se la vuoi me la paghi cara e soprattutto mi dai qualcosa in cambio questo qualcosa in cambio sono tante cose differenti per esempio possono essere le informazioni sanitarie degli abitanti del tuo paese che sono le informazioni probabilmente più importanti che ci siano no che sono le nostre informazioni quelle quelle che quelle segrete quelle che non conserviamo giurisamente quelle ne va proprio della vita e della morte nostra oppure abbiamo in cambio di questo tu ti schiedi dalla mia parte quando in consenso internazionale bisogna fare qualche cosa per esempio bisogna votare sulla guerra in ucraina bisogna fare qualsiasi altra cosa cioè il è un potere gigantesco ovviamente la russia e la cina che hanno i loro vaccini come anche cuba che ha il suo vaccino hanno da parte loro hanno cercato di fare la stessa cosa e e loro in qualche modo sono stati ascoltati di più del resto del mondo no non sono non il resto del mondo anche perché loro gli hanno fornito questi vaccini seriamente gli hanno forniti a un prezzo molto più basso e sono riusciti a acchiappare una parte del dei consensi degli altri paesi del mondo lo abbiamo visto per esempio adesso che c'è stato un voto sull'ucraina gli stati uniti hanno presentato una mozione di condanna della russia sull'ucraina dove si chiedevano anche sanzioni ovviamente bene su le nazioni unite ci sono scritte 197 nazioni perché non tutte fanno parte delle nazioni unite le 197 nazioni solo 57 o 56 mi pare hanno votato a favore cioè i tre quarti del mondo ha votato contro le nazioni unite e paradossalmente è stata dalla parte della russia quindi è l'occidente in realtà che è isolato esattamente esattamente e stanno dalla parte della russia allora questo 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 è dovuto a tante cose ovviamente all'assurdità di quello che si sta delle politiche sull'ucraina tutto quello che volete ma anche dal punto di vista pratico perché cina russia e cuba che in questo momento sono sulla stessa barca in qualche modo hanno utilizzato la loro influenza conquistata anche grazie ai vaccini per spingere tre quarti del mondo a dire no io con te casa bianca non ci sto non ci vengo non vado per conto mio chiarissimo e senti franco la possiamo dire che ormai gli stati sono un contraente debole nel rapporto con le corporation sì non è una cosa definitiva non è una cosa irreversibile irreversibile no non è irreversibile in senso una cosa reversibile ma il problema che noi non non stiamo facendo nulla per cambiare lo stato delle cose o intendi anche come come popolazioni intendo come tu perché la perché mi sembra che in questo senso qui al di là di tutti i proclami che fanno i politici no poi adesso siamo in campagna elettorale quindi è proprio il il regno dei proclami adesso no i politici al di là di questo del loro atteggiamento sembra che nei fatti abbiano abdicato in pratica sì al loro ruolo ascoltate la campagna elettorale parla del nulla i due grandi temi che sono sul piatto in questo momento anzi ce ne sarebbero anche tre diciamo che sono la guerra la pandemia e il riassetto del mondo quindi il che ne va del futuro c'è uno pensa l'estetto del mondo una cosa enorme che mi frega io ho i problemi qua dietro con la ventezza urbana o con un'altra cosa no e noi riassetto del mondo è tutto cioè quello che poi ci schiaccia a noi cioè è quello che fa sì che noi le merci quando andiamo in supermercato paghiamo di più le cose oppure non troviamo qualche cosa oppure è quello che ci spinge a comprare dei prodotti piuttosto che altri è quello che ci trasforma la nostra scuola è tutto il riassetto del mondo queste tre cose perché il mondo si sta riassettando sono totalmente fuori dalla campagna elettorale le cose più importanti sono proprio tenute ben lontane e mi sembra anche vedendo se ne guardano bene di affrontare i politici in campagna elettorale sono quelle più importanti cioè quelle veramente che fanno la differenza cioè la differenza se noi ammazziamo delle persone a 3.000 km di distanza come stiamo facendo in donbass noi con le nostre armi italiane oppure ci autoflagelliamo con le sanzioni oppure reintroduciamo il green pass o qualsiasi altra cosa essa sia e ricominciamo con l'apartheid in questo paese oppure abbiamo i prezzi alle stelle e poi non so una cosa banale Ikea no tantissimi oramai comprano i mobili da Ikea perché non hanno soldi poi è comodo insomma è la cosa più più semplice è un classico quasi tutte le persone conosco qualche mobile almeno lo comprano da Ikea no allora Ikea da due anni a questa parte non c'è i mobili non c'è il legno non riesce uno va lì lo vedo per una cosa pratica cioè ho una persona cara che ha dovuto che ha preso casa che doveva ridere casa e un anno e mezzo non riesce a avere i mobili è una stiamo parlando di una cosa pratica e quei mobili non è che non ci sono perché Ikea non sono più in grado di fare il loro lavoro perché si sta riassettando riassettando questo tutto il sistema del mondo e in questo sistema mondo l'Europa va in fondo e in questo sistema mondo le alcune aziende diventa un'area secondaria esattamente e quindi io il legno ma non lo do a te lo da un altro oppure me lo paghi il triplo e quello dice no io al primo non te lo compro vabbè non te lo do non cioè sono le cose basiche uno appunto banalmente va da Ikea per comprarsi una libreria e non se la può comprare certo e se la prende con Ikea al di là di quello che è quell'azienda se potremmo raccontare per giorni che cos'è Ikea ma quella è un'altra questione però la cosa pratica nostra è che la liberia non ce l'abbiamo e queste cose qui se non si capisce che queste cose qui sono in gioco cioè la nostra vita quotidiana e tutto ciò dalla campagna elettorale non c'è non c'è assolutamente e senti abbiamo nella prossima domanda ti chiedo la cortesia di stare entro i due minuti sarebbe un domandone che bisognerrebbe farci quasi una conferenza e ma noi iniziamo proprio con questa intervista nella collaborazione con gli amici della televisione di capri evento il 95 il canale 95 del digitale terrestre in quanto televisione quindi si sta inevitabilmente all'interno di un palinsesto black rock viene definita la banca mondiale ombra sempre nella tua nella nella video inchiesta ci puoi spiegare proprio a questo punto il proprio in due minuti allora black rock è proprietaria di migliaia veramente migliaia di aziende tra cui tantissimi in italia tra cui le grandi banchi che sono unicredit intera san paolo monte de paschi di siena e così via è proprietaria di dei nostri pacchetti diciamo dei dei titoli stati italiani e dei titoli stati tantissimi paesi più tantissime aziende tra le tante cose è proprietaria della banca mondiale cioè investito nella banca mondiale noi pensiamo la banca mondiale è un ente peraltro che funziona malissimo che che è una sorta di ente oppressore del mondo ma non è che è un oppressore così perché sono cattivi quelli della banca mondiale perché i suoi proprietari che dovrebbe essere principalmente gli stati uniti america quindi fare l'interesse degli stati uniti america ma soprattutto black rock e vanguard e state street c'è quella triade finanziaria che controlla tantissime cose loro si fanno gli affari loro e quindi dicono benissimo io banca mondiale ti do i soldi ma in cambio tu mi fai sfruttare quelle miniere mi fai fare quelle cose in cambio fai quella riforma in cambio è anche lui proprietario della banca mondiale e la banca mondiale è azionista dell'oms e la banca mondiale azionista di altre cose cioè è una sorta di di rete che veramente totalmente intrecciata e i paesi se hanno bisogno di soldi come fa l'italia con il sistema attuale che è sbagliatissimo sistema della anche dell'euro e così via che è sbagliatissimo devono rivolgersi alla fine a black rock sia attraverso la banca mondiale ma soprattutto per chiedere di acquistare i titoli di stato i titoli di stato li acquistano loro e avendoceli loro se tu non fai le riforme che devi fare loro rivendono così ribotto e il tuo paese crolla come è successo nel 2011 chiarissimo e come sta avvenendo anche nelle dinamiche della dell'unione europea nei riguardi dei vari stati in particolare l'italia che ovviamente è osservato speciale io siamo in chiusura franco io ti ringrazio moltissimo di queste preziose informazioni eccolo qui virus crazia l'audiolibro l'audio inchiesta ultima ultima realizzazione di franco fracassi e poi potete leggere nella nel testo di accompagnamento dove acquistarlo franco fracassi all'indirizzo franco fracassi 1 il numero chiocciolo gmail.com virus crazia chi ha guadagnato e trarrà enormi vantaggi dalla pandemia io l'ho definito e ribadisco un corso accelerato di consapevolezza e franco ti ringrazio ancora una volta e ci vediamo presto ci sentiremo ancora presto perché la situazione è in costante evoluzione e quindi il tuo poi è uscito un altro libro quindi ma ne parliamo allora la prossima la prossima volta e tu hai proprio una velocità una velocità supersonica di produzione di libri d'altra parte con tutto il materiale che hai già a monte ovviamente costruito in anni in decenni non è non è complicato per te grazie grazie ai nostri ascoltatori